Ben trovati gli amici di Trebi Meteo da Stefania Cattaneo, godiamoci questa domenica di bel tempo prevalente salvo delle nebbie al nord e sulle valli interne del centro perché a partire dalla prossima settimana ci sarà un deciso peggioramento su gran parte della penisola, in particolare sulla parte occidentale. Per saperne di più e quindi seguire gli aggiornamenti basta scaricare l'applicazione gratuita di Trebi Meteo sempre aggiornata anche sulle temperature, noi insieme vediamo quelle per il 2 di novembre, le minime sono ancora caratterizzate da valori bassi in Valpadana e sulle zone interne appenniniche localmente al di sotto dei 5-6 gradi. Per quanto riguarda le massime generalmente stazionarie però in lieve calo al nord comprese tra i 15 e i 20-21 gradi. Entrando nel particolare del nord Italia come vi anticipavo permangono condizioni di stabilità e quindi cieli per lo più sereni o comunque poco nuvolosi salvo delle foschie o dei banchi di nebbia sulla Valpadana e a partire dalla serata nubi in aumento sulla Liguria e sul basso Piemonte in estensione poi durante la notte a tutto il nord ovest. Al centro Italia alta pressione ancora protagonista per una giornata caratterizzata da cieli sereni e quindi tempo soleggiato ovunque salvo qualche banco di nebbia a battino nelle vallate interne e dalla sera maggiore variabilità lungo le coste tierreniche. Una giornata stabile e ben soleggiata al meridione con l'alta pressione protagonista che ci regala cieli sereni un po' ovunque, un po' più di nubi tra Sicilia e Bassa Calabria ma comunque senza particolari fenomeni associati. Mentre in serata anche qui nel basso terreno avremo maggiori addensamenti ma comunque nulla da segnalare come del resto sulla Sardegna dove i cieli saranno sereni e il clima buono con punte di 21-22 gradi. Aggiornamenti in tempo reale come vi dicevo sulla nostra applicazione. Aggiornamenti in tempo reale come vi dicevo sulla nostra applicazione.